Oggi è la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Nel servizio che vi proponiamo, gli ultimi dati, poi l'intervista di Claudio Pandolfi alla madre di Vito Scafidi, lo studente che morì nel crollo del liceo di Rivoli a Torino nove anni fa. Sono vecchi gli oltre 40.000 edifici scolastici italiani, secondo l'ultimo rapporto di Lega Ambiente per il 60% sono stati costruiti prima del 1976, anno dell'entrata in vigore della normativa antisismica che viene rispettata solo dal 12% delle 15.000 scuole in zone ad alto rischio terremoto. Dal 2014 con la riforma della buona scuola sono stati finanziati i lavori di miglioramento per 4 miliardi di euro a cui se ne aggiungono altri 5 e mezzo, tra fondo unico per l'edilizia scolastica, mutui della Banca Europea per gli investimenti e altri fondi. Oltre 12.000 di interventi avviati nei primi due anni, 6.000 cantieri chiusi finora, tempi ancora lunghi, rallentati da burocrazia e procedure. Il 22 novembre è diventata la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole perché quel giorno, 9 anni fa, moriva a 17 anni Vito Scafidi, ucciso dal crollo del controsoffitto della sua classe del liceo Darwin di Rivoli, vicino Torino. Vito ha fatto uscire fuori la verità, che prima la sicurezza nelle scuole non era una cosa importante. È cambiato qualcosa da allora nelle scuole? Si è più consapevoli che per tanti anni non si è fatto nulla nelle scuole. Hanno investito soldi, ma dove c'è ancora da investire nella cultura della sicurezza? È questo che manca. È una cosa che anche fare le prove di evacuazione in una scuola è una perdita di tempo, è una perdita di ore a scuola. Quando è successa la tragedia Vito, non funzionavano le campanelle di allarme. La sicurezza è vista come una cosa noiosa, fastidiosa. Quindi quello che chiedo io è come si fanno tanti concorsi o progetti per la musica o per altre cose e renderla anche così per la sicurezza. Magari con dei testimoni. Genitori, insegnanti, istituzioni pensano sempre che non succeda mai nulla. Ma se sette studenti su dieci rischiano la vita tutti i giorni vuol dire che non è un problema da nulla, che domani può capitare a qualcun altro.